Oggi Don Enzo vede pienamente, senza diaframmi, nella pienezza della luce, la liturgia del cielo, la sua bellezza che intravedeva da piccolo di Dio. Si sono tenute nel primo pomeriggio di lunedì l'eseequo in suffragio di Monsignor Enzo Lodi, deceduto venerdì alla casa del clero, all'età di 96 anni. Il nome di Monsignor Lodi è legato profondamente alla liturgia e al rinnovamento delle sue forme rituali, legato al Concilio Vaticano II, con il gruppo di lavoro che sostenne l'impegno in ambito liturgico dei cardinali Lercaro e Poma. Insigne studioso e ricercatore delle fonti liturgiche e della teologia del rito eucaristico, promotore della partecipazione attiva dei laici al mistero della fede e per questo attratto fin dagli anni 60 al dinamismo di alcuni movimenti laicali. Lodi ha contribuito alla formazione e alle scienze liturgiche di intere generazioni di seminaristi del seminario bolognese e non solo. La liturgia, ha detto il cardinale Zuppi che ha preseduto il rito, è stata la sua passione che ha trasmesso a generazioni di studenti e in molti modi anche alla Chiesa Universale, vivendo la stagione, peraltro tanto legata alla Chiesa di Bologna, del concilio Vaticano II della riforma liturgica fin dalla seconda metà degli anni 50, anticipando alcune linee di quei cambiamenti guidati dalla preoccupazione di non dissociare la liturgia dalla vita. Attivo fino ad alcuni anni fa nello studio e nella produzione accademica, Monsignor Lodi ha consegnato negli ultimi suoi libri il suo testamento accademico e spirituale. fede creduta perché celebrata, segni e vita nella liturgia, mistagogia della messa, titoli nei quali si evidenzia il suo sguardo prospettico che si potrebbe definire allo stesso tempo enciclopedico e unificato, dalla miriade di fonti patristiche ed eucologiche da lui maneggiate con una grande precisione e competenza, alla realtà di una pastorale che ha nel rito eucaristico il suo centro unificante e il suo senso. Anche il cardinale ha ricordato come la vita di Don Lodi sia stata punteggiata da una miriade di aneddoti che i seminaristi si sono simpaticamente tramandati. Si ricorda ad esempio di quando doveva consegnare i fogli con i testi dei nuovi lezionari per l'approvazione definitiva che egli puntualmente disseminò con la sua lambretta nel tragitto tra il seminario e l'arcivesco Vado. Più che distratto Lodi era talmente concentrato nella sua indagine da perdere di vista gli aspetti più pratici della vita quotidiana fino a non ricordarsi neppure se avesse o meno pranzato. Restano poi celebri alcune sue dispute talvolta anche con le sue stesse posizioni assunte precedentemente perché Lodi era intellettualmente onesto e sempre disposto alla ricerca delle sintesi migliori che ultimamente va detto aveva incontrato nella produzione teologico liturgica di Ratzinger e nel magistero cristocentrico di Biffi.